In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli A voi che ascoltate io dico Amate i vostri nemici Fate del bene a quelli che vi odiano Benedite coloro che vi maledicono Pregate per coloro che vi trattano male A chi ti percuote sulla guancia Offri anche l'altra A chi ti strappa il mantello Non rifiutare neanche la tunica Dà a chiunque ti chiede E a chi ti prende le cose tue Non chiederle indietro E come volete che gli uomini facciano a voi Così anche voi fate a loro Se amate quelli che vi amano Quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene a voi Quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere Quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori Per riceverne altrettanto Amate invece i vostri nemici Fate del bene senza sperarne nulla E la vostra ricompensa sarà grande E sarete figli dell'Altissimo Perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagie Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso Non giudicate e non sarete giudicati Non condannate e non sarete condannati Perdonate e sarete perdonati Date e vi sarà dato Una misura buona pigiata colma e traboccante vi sarà versata nel grembo Perché con la misura con la quale misurate Sarà misurato a voi in cambio Buona domenica e ben ritrovati a tutti Domenica scorsa, se ricordate Gesù ci ha annunciato la salvezza per i poveri La rovina per i ricchi Oggi pronuncia il primo dei suoi amati E di colpo il discepolo, noi, ci troviamo davanti a una scolata durissima Amare i nemici Sorge immediata la reazione in me Ma credo anche in voi, in tutti È impossibile Non ce la faremo mai È un progetto troppo esigente Ambizioso Non è giusto Ma sappiamo che Gesù non vuole eroi nel suo regno Non vuole atleti dello spirito che siano adatti per imprese impossibili E allora come fare? Cosa fare? Ed ecco la sorpresa, a mio avviso Il regalo che il Vangelo di questa domenica ci offre Agite come volete che gli uomini agiscano verso di voi Come vorrei che agissero con me Chi vorremmo avere accanto? Vorremmo avere gente che ci perdona quando abbiamo sbagliato Che abbia pazienza quando siamo irritanti Che ci dia un'altra possibilità quando non ce la facciamo la prima volta Gente che non reagisca Ai nostri scatti d'ira Gente che ci comprenda Gente che non tenga conto Delle nostre parole brusche Gente che non ci maledica Anzi piuttosto che preghi per noi Chi di noi non vorrebbe gente così? Un coniuge così? Un padre così? Chi non spera di trovare un amico che ha il cuore così? Ecco, a questo è invitato il discepolo da Gesù Questo è quello che allora cercherò di dare all'altro Amate i vostri nemici Benedite, date Capiamo che questa di Gesù è l'unica strada È l'unica strada fattibile Percorribile Per aprire un futuro nuovo tra le persone Un futuro bello Un futuro di fiducia L'unica strada per creare relazioni positive Creative Per una crescita di umanità E non di violenza O di inganni Penso che tutti abbiamo Un disperato bisogno di essere perdonati Amati, abbracciati Di trovare qualcuno che ci accolga Senza calcoli E qualcuno da accogliere Senza paura L'amore è necessario per vivere Non è un optional Ma Gesù ci spinge Ci invita Oltre Tutti attorno a noi Tutto dentro di noi Dentro di me Mi invita e dice Fuggi dal nemico Allontanato Rendilo innocuolo Prendi il sopravvento su di lui Viene Gesù E ci dice E mi dice Ama il nemico Gesù mi chiede di andare oltre Il senso comune Mi chiede di andare oltre Quei meccanismi psicologici Sociali Dalle quali alle volte Sono presa E mi condizionano E mi chiede Di fare questo Non per essere diversa dagli altri Ma per essere Una sua degna seguace Gesù in tutta la sua vita E con tutta la sua vita Dal momento Della lavanda dei piedi A tutti gli apostoli A Giuda compreso Colui che si era fatto Suo nemico Fino al momento Della croce Il luogo Supremo Del suo amore Fino alla fine Per tutti i suoi Che lo avevano abbandonato Fino al momento In cui Prega Per i carnefici Che lo stanno Crocifiggendo Gesù A testa questo amore Incondizionato Gratuito Passionale Rivolto Anche Ai nemici E ora A noi Ai suoi discepoli Ai credenti Attraverso Questo brano Che ci elenca Una serie di verbi Molto concreti Ci indica Otto passi Se guardiamo Troviamo che Quattro verbi Sono rivolti a tutti Amate Fate del bene Benedite Pregate Quattro verbi Sono indirizzati Al singolo A me Offri Non rifiutare Da Non richiedere indietro Passi concreti Passi E amore Fatto Di gesti Di prestiti Di mantelli Di mani Vorrei Soffermarmi Su un'affermazione Che ci fa Sempre molto problema Offri L'altra guancia Ossia Disinnesca La violenza Ferma La violenza Su di te Sii disarmato Non suscitare Paura Dimostra che Non hai nulla Da difendere Nemmeno te stesso E l'altro Capirà che È assurdo Esserti nemico Offri L'altra guancia Altrimenti A vincere Sarà sempre Il più forte Il più violento Il più crudele E Oltretutto Ci invita Gesù A farlo Prendendo noi L'iniziativa Facendo noi Il primo passo Ricominciando E dando fiducia Una via altissima Beco Risuonare di nuovo Nelle mie orecchie Il ritornello Del Vangelo Come volete Che gli uomini Facciano a voi Così anche voi Fate a loro Ciò che desiderate Per voi Fatelo Agli altri Gandhi diceva Sì tu Il cambiamento Che vuoi vedere Nel mondo Il mondo Che desideri Costruiscilo Ciò che desideri Per te Ciò che Ti fa felice Ciò che Ti tiene in vita Donalo All'altro In modo unilaterale Gratuito Dimenticando Il dare L'avere Il giusto L'ingiusto E infine Questo brano evangelico Con cinque parole Gesù ci porta Alla radice Della morale Evangelica Siate Misericordiosi Come Il Padre Questa è la roccia Su cui si fonda L'etica cristiana La ragione Ultima Vorrei dire L'unica Accettabile Perché devo amare Perché devo perdonare Per imitare il Padre Che perdona Sempre E comunque Senza ma E senza se Perché Io Sono stato amato Gratuitamente Per primo Da Dio Al di là Di ogni mio merito Il Vangelo Ci invita A riconoscere In noi stessi Il nemico Amato da Dio Il nemico Per il quale Cristo È morto Ed è proprio Da questa Profonda esperienza Di fede Che nasce La possibilità Di compiere Questo itinerario Spirituale Che porta All'amore Per il nemico San Paolo Nella sua lettera Ai Romani Scrive Dio Dimostra Il suo amore Verso di noi Perché mentre Eravamo ancora Peccatori E nemici Cristo È morto Per noi Alla fine È evidente Che Se non voglio Leggere Nel Vangelo Solo Le pagine Le pagine Più belle Che più Mi danno Soddisfazione Che alle volte Più mi fanno comodo Devo imparare Ad accogliere Anche Queste pagine Estremamente Impegnative Ma non solo Devo anche Ed è l'invito Che faccio A me E a ciascuno Di voi Imparare A vedere Queste pagine Come Buona novella La buona notizia Della salvezza Per me Per te Per ciascuno Di noi Buona domenica Buona notizia Buona notizia Buona notizia Buona notizia